Allora, io sono Paola Manfredi e vengo dagli Stati Uniti e sono qui a Salerno per questa iniziativa che Femi Research ha intrapreso insieme all'Archivio di Stato di Salerno con la collaborazione dell'Università, dell'Archivio Storico Provinciale, dell'Archivio Diocesano e del Museo del Cognome. In sala adesso stiamo dando una dimostrazione pratica su come funziona il programma di indicizzazione. Come Femi Research ed insieme sempre all'Archivio di Stato promuoviamo questo progetto che prevede l'indicizzazione dei registri di Stato civile italiani. Quindi significa che quando questo progetto sarà completato si potranno ricercare i registri di Stato civile italiani online tramite l'ausilio di un indice. Ovviamente è un progetto in corso d'opera perché i registri sono tanti ma comunque è qualcosa a cui cerchiamo di far collaborare anche le scuole. Infatti c'è una scolaresca che sta imparando a indicizzare, quindi ad estrarre dai registri dell'Ottocento i dati essenziali per creare un indice.